Mocassini, sandali, di desiderate sia dalle ragazze comuni che dalle dive del cinema, le scarpe hanno la grande capacità di mettere tutte d'accordo e alcune di loro sono così tanto desiderate da sembrare quasi immuni al passare del tempo. Noi, oltre ai modelli più famosi, come le meravigliose scarpe Louboutin da donna o le Pump di Manolo, abbiamo provato a stilare una mini lista dei modelli più iconici che hanno fatto la storia e che ci hanno fatto innamorare a prima vista. Ecco quali sono, era il 1957 quando Coco Chanel ha realizzato le sue prime slingback bicolor. A distanza di oltre 60 queste iconiche scarpe beige e nere, con il tacco largo, non perdono il loro appeal e continuano ad essere avvistate ai piedi di ogni fashionista che ha la fortuna di averle nella propria scarpiera. Scarpe must have nelle ultime stagioni, ma grande icona da più di 60 anni, i celebri moccassini di Gucci, un modello unisex, pensato sia per lui che per lei, realizzato in pelle liscia e decorato con un morsetto in metallo. Amatissimi dalle celeb, da qualche stagione sono gli indiscussi protagonisti dello street style e oggi, declinati in tante nuovissime varianti, sono gettonatissimi tra le influencer, a dir poco iconici, tra le scarpe che hanno fatto la storia e che sono state più apprezzate dall'universo femminile, le rockstad di Valentino, le celebri décolleté a punta con piccole borchiette su profili e cinturini. Oggi sono proposte in mille colori e versioni diverse, rasoterra, con il tacco basso o a spillo, e si confermano uno dei modelli must della scarpiera, super sensuali e femminili, i quizzards di Stuart Weitzman, un modello alto fin sopra il ginocchio che negli anni ha fatto capitolare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.